Buongiorno a tutti sono Sandro Tognazzi e vi vorrei raccontare che quando ho pubblicato quei dischi un disco che si chiamava bat camp e qualche anno fa mi sembra o di più sono stati acquistati e sono arrivato fino a quasi a 16 euro volevo ringraziare queste persone che hanno contribuito alla mia sopravvivenza e vi saluto tanto e vi ringrazio grazie a tutti voi e arrivederci